Un buongiorno, ben svegliati. Ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, è questo lunedì 9 luglio che apre questa settimana. Ovviamente spazio, come ogni lunedì, molto spazio nella seconda parte alle tematiche sportive, visto che siamo riduci da un domenica con tanto calcio, ma è una settimana in cui partono anche alcuni ritiri, tra cui quello del Pescara questa mattina. Ma ovviamente in questa prima parte iniziamo dalle prime pagine, iniziamo dai quotidiani di casa nostra, dalle quattro edizioni del quotidiano Il Centro. Quella che vedete alle mie spalle è l'edizione di Pescara, che apre con, purtroppo, la cronaca. Schianto in auto, grave una bimba, Manopello, la piccola di tre anni, era con la madre. È stata operata in alto sotto la testata due box che riguardano questioni nazionali e internazionali. Ad esempio, i ragazzi prigionieri in grotta in Thailandia, in salvo i primi quattro ragazzi, si prepara un nuovo tentativo a fare religione. Dall'altra parte camorra anche a Meggiugorie l'allarme dell'inviato del Papa. Vediamo la fotonotizia. La cerimonia dei premi Flaiano, le star del cinema e della televisione sfilano a Pescara. La 45esima edizione dei premi internazionali Flaiano è la prima senza il suo patron, Edoardo Tiboni. Nelle cronache siamo a Francavilla. Ciro Immobile, l'aggressore, ci sono anche parole di Ciro Immobile, è solo un esaltato. Il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, ha contattato telefonicamente Ciro Immobile che sabato è stato aggredito verbalmente sulla spiaggia da un 35enne armato di coltello. Luciani gli ha chiesto scusa e gli ha espresso solidarietà. L'attaccante ha rassicurato Luciani parlandogli di quest'uomo come di un esaltato. A Pescara, eventi, multe, furti e incidenti, ecco la riviera. E poi la sentenza, consiglio di Stato, danni da cinghiali pagano i cacciatori. Dall'altra parte il cinema italiano in lutto perde Carlo Vanzina, fu inventore dei cinepanettoni. Il regista si è spento ieri a Roma all'età di 67 anni. Il regista, sceneggiatore e produttore insieme al fratello Enrico. In basso, come vedete, spazio allo sport. Pillon riparte, obiettivo playoff per Scara Calcio. Oggi inizia il ritiro. Primi allenamenti al Vestina di Montesilvano con 28 giocatori. E poi Formula 1 Vettel vince a casa di Hamilton. E a lunga, ieri vittoria della Ferrari sul circuito di Silverstone. Cambiamo edizione, andiamo su quella di Chieti Lanciano Vasto. Ovviamente cambia l'apertura. È dedicata all'Ateneo. Corsa all'iscrizione ai test. Università pronti, bandi per le ammissioni. Prima prova il prossimo 4 settembre. La foto. Mille alpini sfilano per i caduti di guerra e di pace. San Salvo, terzo raduno regionale. Far a San Martino, nelle cronache, torna la banda del Bancomat. Assalto alle poste. Non sono bastati i cinque resti due mesi fa. Piane d'Archi per fermare la banda della Marmotta. Che dunque evidentemente continua ad imperversare. Poi come vedete molto rimane simile. La questione, l'aggressione verbale a Ciro Immobile. La sentenza del Consiglio di Stato rimane simile all'edizione di Pescara. Che cosa cambia? Cambia che in basso lo sport non è più dedicato al Pescara. Ma si parla della Vastese. Dunque scendiamo in Serie D che sogna la punta Shiba. La società vuole l'albanese. Eccellenza Chieti rivoluzionato. Sarà un Chieti rivoluzionato quello che tenterà l'assalto al campionato di Serie D. Dopo il campionato scorso in cui ha avuto la meglio il Giulianova. L'edizione di Teramo del centro. Anche qui cronaca. Rischia di morire folgorato a 12 anni. Giulianova ha toccato un faro difettoso in piazza. Aperta un'inchiesta. Poi ovviamente leggeremo nel dettaglio questa notizia. Andiamo a centro pagina con la foto. Interamnia, l'Italia Under 20. Cede in finale a Israele. La Coppa di Pallamano che è in corso proprio a Teramo. L'Italia di Pallamano Under 20. Ha perso ieri contro Israele la finale del corangolare tra selezioni nazionali. Che tecnicamente ha rappresentato, si legge, il clou della Coppa Interamnia. A Civitella, nelle cronache, il tetto si sfonda, cade e muore nel suo fienile. A Teramo, truffa del sisma, il PM chiede quattro processi. E poi in basso le parole, anche qui cambia lo sport, le parole del presidente del Teramo Campitelli che dice Teramo ti voglio ambizioso. Il patrono anticipa i nuovi soci, avranno una quota del 15%. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana. Progetto case, discarica in 19 siti. L'Aquila, quintali di ingombranti abbandonati da chi lascia gli alloggi. A centropagina, invece, la foto Cristicchi celebra De Andrè nell'emiciclo ritrovato. Successo per lo spettacolo in notturna. Nelle cronache, siamo ad Avezzano, anziano trovato morto, tra i rovi indaga. Il PM è stata la figlia preoccupata dalla lunga assenza a trovare il corpo senza vita di Luigi Lolli, 93 anni, era nascosto nell'erba alta vicino ad alcuni rovi, in un campo sul retro delle abitazioni. Sul volto anche alcune ferite che hanno insospettito gli investigatori. Siamo a Sulmona, Casa Italia, piano a rischio, smantellamento. Anche qui cambia lo sport e restiamo in serie di ma per parlare dell'Aquila. L'Aquila, Traius, è una cordata locale contro la rovescia per l'iscrizione, ma ci sono tanti dubbi. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo a vedere il messaggero che apre con la vicenda che abbiamo letto prima di Giulianova. Bambino folgorato da un faro, Giulianova grave in ospedale dopo aver toccato una presa elettrica dell'illuminazione del monumento a Vittorio Emanuele II. Salvato da un ex calciatore in furia la polemica. Leggiamo allora l'attacco proprio del pezzo. È stata sfiorata la tragedia davanti al monumento simbolo di Giulianova, la statua di Vittorio Emanuele II. Mentre giocava con alcuni amici, un bambino di 12 anni ha toccato inavvertitamente la presa elettrica di un faro. Ed è rimasto folgorato a salvarlo da sicura morte è stato Claudio Zaccagnini, che è ex portiere anche del Giulianova Calcio qualche stagione fa e che si trovava sulla piazza per salutare gli amici. Il faro si trova nel perimetro del monumento e la sua pericolosità era stata segnalata da tempo, evidentemente senza conseguenze apprezzabili. A Civitella-Roveto bande di minori lanciano oggetti sulle auto in corsa. Nel suo palco Teatro Ragazzi palla al centro a Pescara, quattro giorni di grandi spettacoli. Per il rugby l'Aquila Club e l'Ura giorni decisivi per l'iscrizione. Per lo sport Pescara il mercato in salita, il Teramo invece ha acquistato Ioad Ferretti. Niente ufficialità per Memmucciai, sfumato anche Antonucci, ovviamente siamo in casa Pescara. Via Raduno, colpo del club bianco-rosso, il laterale proviene dalla Ternana e ha 24 anni. Una bella notizia, la scoperta a crecchio di spalle torna alla luce la necropoli frentana. E poi le stelle del premio Flaiano nella foto, red carpet in Piazza Salotto nella notte dei Pegaso. Ovviamente è ricordato Carlo Vanzina. Altre notizie, caricano le moto e fuggono, caccia la banda del furgone, la mobile a Pescara indaga sul ride di sabato notte, torna l'incubo estivo. Altre notizie, nei box San Salvo in mille al raduno degli Alpini a Lanciano. Bancomat minato, colpo grosso a Fara San Martino e poi la rinascita dell'Aquila, l'Aquila rinasce a Fitti, la ripresa del mercato. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Messaggero edizione abruzzese. Andiamo sui quotidiani nazionali per vedere anche altre notizie. Partiamo, come vedete, dal Corriere della Sera che apre con le parole del Ministro dell'Interno Salvini. Ora stoppa le navi militari, lite con la difesa, a caso sui migranti salvati dagli irlandesi. La shagura che si sta ricomponendo, speriamo, in Thailandia. 8 ore per rivedere la luce, 4 ragazzi sono stati salvati, ne mancano altri. E l'allenatore, le prossime ore dovrebbero essere decisive per il salvataggio di tutti i bambini intrappolati. L'intervista a Calderoli, ho verificato i conti alla Sparkasse, l'intervista all'esponente della Lega. Ovviamente si torna sulla questione dei 49 milioni di euro. In basso una notizia che ha fatto poi al Giro d'Italia, il primario chiude il reparto per festa. A Napoli, pazienti dimessi, medici e infermieri in ferie per il party. L'ASL lo sospende, il primario di chirurgia vascolare dell'ospedale del mare di Napoli. Aveva invitato tutti, pensando bene evidentemente, di chiudere anche il reparto per non far mancare proprio nessuno alla sua festa. Impresa Ferrari a Silverstone, Vettel e Trionfo con polemiche a casa della Mercedes. Andiamo su Repubblica, c'è la foto in apertura fuori dalla grotta, quattro ragazzi, ma la pioggia ostacola i soccorsi. E l'altra apertura dal carattere più grande, porti chiusi pure alla flotta UE, ma la difesa sconfessa Salvini. La ministra Trenta, orgogliosi della missione, Sihofer, propone all'Austria un patto anti-Italia. Sihofer, ministro dell'interno tedesco, propone all'Austria questo evidentemente patto anti-Italia. Le analisi ovviamente su Repubblica, per esempio questa di Michele Ainis, se il governo incorpora i controllori. Andiamo al fatto quotidiano, Di Maio, l'altro vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico. Di Maio a Berlusconi, lobby addio, decreto dignità, arriva alla Camera, il Caimano attacca e il vicepremier replica. Forza Italia attacca le nuove norme sul lavoro, puniscono gli imprenditori e chiede aiuto agli ex alleati del centro-destra. Di Maio rivendica il provvedimento, i leghisti invece se ne restano in silenzio. In alto, Miss Delcy, la lady di ferro pronta per il dopo Maduro, siamo in Venezuela, la sua scalata, manca soltanto il trono più alto. Migranti, l'inferno dei dimenticati sulla rotta balcanica, frontiera bosniaca, 700 persone in uno scheletro di mattoni. L'addio a Carlo Vanzina, 40 anni di film e risate all'italiana, morto ieri dopo una lunga malattia. E poi questa storia di copertina, 10 anni di governi, cosa hanno fatto? Nel primo mese, da Berlusconi a Conte, gli ultimi 5 esecutivi hanno cercato di mettere a segno una manovra d'impatto, cavalcando il consenso popolare in grado di addolcire gli animi in vista delle inevitabili, come spesso avviene, grane, poi future, lune di miele tra governo e italiani, poi durano non tantissimo. Libero, anche le navi irlandesi ci scaricano clandestini. Salvini, ora chiudiamo i porti a tutti. I militari di Dublino soccorrono in acque maltesi 106 migranti e ce li mollano in barba agli accordi. Matteo, paghiamo gli errori dei governi DEM, ma il Movimento 5 Stelle ostacola il vicepremier, decide la difesa, non lui di spalla. Renzi aggredito dai compagni che ha miracolato, coro di critiche ingiuste secondo Libero. E poi questa intervista, Enrico Mentana confida i propri timori per i quattro figli, il domani il lavoro. Il direttore del Tg di La Sette, Lusingato, se Rete 4 mi imita. E poi il sondaggista Pagnoncelli perché la Lega ha superato Silvio e ha convinto il Sud Italia. In basso, Ciao Vanzina, il regista che amava la borghesia. Carlo non usava il cinema per fare lotta di classe, ma per divertire noi e se stesso. E poi il ritratto privatissimo di Cristiano Ronaldo. Le due famiglie di Cristiano Ronaldo. Andiamo avanti. Il messaggero, ma come vedete edizione nazionale, porti chiusi, lite Salvini difesa, migranti, tensione per lo stop annunciato dal Viminale anche per le navi militari internazionali. Il ministro Trenta non è nelle sue competenze. Il caso della vedetta irlandese attraccata. La messina, in alto, in grotta col fiato sospeso. Salvi i quattro ragazzi. Prosegue in Thailandia la missione per recuperare tutti. Ma c'è l'allarme meteo. Corsa contro il tempo. Rischio inondazioni nelle prossime ore. I sub per hobby. Chi sono i 18 eroi che riportano a casa? I baby. Calciatori e poi per lo sport le semifinali. Si avvicinano alle semifinali dei mondiali. Il mondiale cala il poker degli assi. Domani la sfida, la prima semifinale tra Belgio e Francia. La Francia del qui fotografato Kylian Bappé. E poi per la Formula 1 GP d'Inghilterra. La Ferrari trionfa in casa di Hamilton. Tra spettacolo, scontri e non sono mancate. E anche furiosi le polemiche. Carlo Vanzina è il regista col sorriso. Scompare il cineasta che ha reinventato la commedia all'italiana. Andiamo avanti. Il mattino. Migranti, porti chiusi a tutti. Scontro tra Salvini e la difesa. Nave militare irlandese sbarca a Messina. 106 sudanesi. Il Viminale attacca. Il ministro 30 sono accordi europei. Gli interni non sono competenti. E poi c'è la festa del nuovo primario. Tutti in ferie. Il reparto chiude il dottor Francesco Pignatelli in una foto durante la sua festa. In cui erano invitati davvero tutti. Clan a Međugorje. Il giallo del prete è sparito nel nulla. L'inchiesta sugli affari della Camorra al santuario riapre il caso di Don Cicciarelli scomparso nel 2013. Il sole 24 ore che apre con questa bellissima foto ma che traccia una mappa a casa, la mappa delle province che guidano la ripresa. Chi sale e chi scende. Bene le città del nord. Da Milano a Torino. E le aree turistiche di Liguria, Valle d'Aosta. Mentre vanno giù Firenze e Roma. Lavoro e causali. Ecco chi è in o out. Ovviamente si torna sul decreto dignità che investe anche i contratti di lavoro. Contratti a termine. Dalla vendita straordinaria all'aumento di produzione. Sei casi al test della riforma. E poi altre notizie. Centri per l'impiego. Efficienza non è più addetti. E poi piccoli prestiti crescono. Il microcredito sociale vola con l'aiuto del tutor. Ovviamente sul sole 24 ore trovate tantissimo spazio alle questioni di carattere economico. Il tempo che apre con l'addio a Carlo Vanzina definendolo eccezionale. Veramente mutuando un titolo di un film di grandissimo successo che vide protagonista Diego Abbato Antuono. Addio Carlo Vanzina che risate con Abbato Antuono, De Sica, Boldi e tanti altri. Il grande regista. In Cassi Record. Titoli storici. Solo la critica radical chic lo snobbava. Di spalla la capitale dei barboni italiani. Sono quasi 7 mila come gli stranieri. E poi citazione del tempo. Salvini, magliette rosse, leggete il tempo. Il ministro rilancia la nostra inchiesta sui VIP di sinistra che hanno detto no alla domanda. Ospiteresti un profugo a casa? La stampa e il muro di Vienna richieste d'asilo soltanto prima di entrare in Europa. Scontro nel governo sullo sbarco a Messina di 106 persone recuperate dalla marina militare irlandese. Salvini chiuderò i porti anche alle navi delle missioni internazionali. Ma la difesa lo stoppa. Non spetta a lui. In Thailandia recuperati 4 bambini. Suspense per gli altri. La scelta impossibile. Il pezzo di Ferdinando Camon. Chi salvare per primo? La questione era come verranno tirati fuori i ragazzi thailandesi intrappolati nella caverna. Una alla volta? Due alla volta? A partire dai più forti o dai più deboli? Davvero delle domande a cui è praticamente impossibile dare una risposta che sia razionale. L'ultimo ciac del principe della commedia Carlo Vanzina aveva 67 anni con il fratello Enrico Vanzina. Ha raccontato i vizi degli italiani. Alberto Infelise firma quella satira. Complice e affettuosa. 40 anni di cinema. Il giornale Salvini va alla guerra. Porti chiuse le navi UE guidate dall'Italia. Lite con la ministra del Movimento 5 Stelle. Berlusconi. Il decreto dignità uccide le aziende. Una lunga lettra. Ieri di Berlusconi sul Corriere della Sera che stoppava gli entusiasmi per questo decreto dignità. Speranza e pazienza. Salvati i primi bambini. Siamo in Thailandia. E poi a Meggiugorje. La camorra a Meggiugorje. Affari con i pellegrinaggi. La denuncia shock dell'arcivescovo Hoser. La verità. Ecco perché chiudo i porti alle navi delle missioni UE. a tu per tu con il ministro dell'interno Matteo Salvini che parla proprio al quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Pagliutugliatore irlandese sbarca a Messina 106 migranti. Il ministro alla verità. Accordi assurdi. Si cambia. Scontro con la difesa. Sull'economia. Tasse. Voucher. Fornero e pace fiscale. I nostri piani. A Mattarella. Dirò. Siamo sereni. L'intervista a Massimo Giletti. Io mio padre. L'azienda della RAI. E così cambia la mia vita. Il decreto dignità. Caro Berlusconi. Scrive Maurizio Belpietro. Ti do un'idea. Il precariato. Sconfiggilo tu. E poi in basso. Perché siamo tutti obesi e come si guarisce. Questa è una rubrica. Finalmente si può dire che Carlo Vanzina era un grandissimo genio di Antonello Piroso. E infine chiudiamo con il secolo d'Italia. Furbizia umanitaria quotidiano vicino ovviamente a Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni va all'attacco della diffusa ipocrisia sui migranti. Di questo si legge nell'attacco del pezzo della redazione. In primo piano Salvini migranti su navi militari. Salvini vuole un altro stop. E poi questa notizia curiosa. Virginia cade in una buca. Staff cancella le prove. Anche Virginia Raggi è caduta in una delle innumerevoli buche che martoriano Roma. Sembra una fake news degna del sito satirico Lercio. Ma è la cronaca di un incidente accaduto alla sindaca sabato mattina in pieno centro. Immediata la reazione del suo staff. Sembra davvero una nemesi. Il saluto a Carlo Vanzina e i suoi film senza snobbismo di Tano Canino. Andiamo adesso ai quotidiani sportivi. Come detto come ogni lunedì ha ampio spazio alle tematiche dello sport. Iniziamo da Gazzetta dello Sport King Vettel. Impresa Ferrari a casa Hamilton. Capolavoro del tedesco. Protagonista di una grande partenza e di un sorpasso d'autore su Bottas nel finale. Lewis II. Urtato al via da Raikkonen che chiude terzo il commento di Pino Aglievi. Così può vincere il titolo. Finalmente ecco il Vettel che serve alla Ferrari per vincere il campionato del mondo. Lo cercavamo da tempo. Si era perso. Aveva un pochino deluso. Ma è probabilissimo che il trionfo di ieri a Silverson gli abbia permesso di chiudersi la porta delle incertezze dietro le spalle. Speriamo davvero che sia così. Ma c'è la furia della Mercedes incompetenti. Gli risponde il team principal della Ferrari. Arriva bene. Vergognatevi. In alto il calcio. Milan a Elliot. Spunta Ribovlev. Il fondo resta o no? Era lì di Hong Kong Lee chiusa. Ora cerca la cessione in extremis. Cristiano Ronaldo e la Juve. Mendes va da Real. Un vertice a Madrid. Perez vuole che sia CR7 a prendersi la colpa dell'addio. In basso. Quattro generali e un mondiale. Deschamps, Martinez, Dalic e Southgate. Scopriamo perché i tecnici sono stati decisivi almeno quanto le loro stelle. Poi la bufera social sul Corato Vida contro la Russia. Festa pro Ucraina. Per il ciclismo Sagan bottino pieno, tappa e maglia. Nella seconda tappa vittoria per il campione del mondo. E oggi la Kronosquare. Battuto purtroppo, beffato sulla linea del traguardo. Il nostro Sonny Colbrelli della Bahrain Merida. Corriere dello Sport che apre esattamente, riprendendo quello che è stato il festeggiamento del team radio di Vettel dopo il traguardo. Lì a casa loro, straordinaria vittoria nella Tana Mercedes. Seba più 8 su Hamilton. Raikkonen terzo. Ellison lo attacca. Arriva bene e risponde. Si vergogni Ellison. Che è passato, ingegnere che è passato proprio dalla Ferrari alla Mercedes. Formula 1. Vette le spugne a Silverson. Al traguardo esplode la sua gioia. Grazie ragazzi. Questa è ovviamente l'apertura del Corriere dello Sport. In basso le questioni che riguardano il Milan. Si riaffaccia a Ribolo Vlev che è anche patron magnate russo del Monaco al fianco di lì per evitare che la società passi a Elliot. Sarri e Ronaldo. La volta buona, anzi le svolte buone verrebbe da dire. Abramovic chiama De Laurentiis per liberare il tecnico. Cristiano alla Juve. E' la settimana decisiva. E poi i mondiali di Modric. Tutti pazzi per il croato che sogna il pallone d'ora e probabilmente lo meriterebbe. Tutto sport manchi solo tu. Oggi la Juve si ritrova. Ronaldo ha rispinto le offerte cinesi. 200 milioni. Il procuratore Bozzo con lui arriveranno altri big in Italia. Domani a Madrid riunione decisiva della giunta Real. Perez è sempre più in difficoltà. Ma anche solo tu sembra dire allegri proprio a Ronaldo. In alto Ferrarissima. Vettel trionfa. Silverstone porta a più otto. Il vantaggio in testa al mondiale. Rovente la polemica con la Mercedes. In basso. Questioni Toro. Ecco Bremer e MIT. Doppio colpo per il Toro. Ci fermiamo per questa prima parte di Mattino 6. Adesso le previsioni del meteo. La pubblicità. Poi torniamo per entrare all'interno dei quotidiani di casa nostra. Seconda parte di Mattino 6. Che riprendiamo ripartendo dal quotidiano Il Centro. Con le notizie ovviamente abruzzesi. Allora partiamo dalla pagina di Pescara. Pagina 10. Immobile. Io aggredito da un esaltato. Il calciatore in vacanza a Francavilla. L'attaccante contattato dal sindaco Luciani. Che gli ha chiesto scusa ed espresso solidarietà. E ieri Immobile era di nuovo in spiaggia. E poi i tifosi della curva solidali con il bomber. Per il primo cittadino di Francavilla. Dice la nostra non è una città violenta ma accogliente. Si tratta solamente di un gesto isolato. L'estate a Pescara. Il racconto della riviera tra eventi furti e incendi. Sabato la città ha ospitato oltre 20.000 persone per la grande notte dei saldi. Ma di giorno ecco in azione gli incivili. Bilancio 70 multe e 11 rimozioni di auto. E questo è il film della giornata con alcune foto che vedete collocate nella parte destra della pagina. Sempre a Pescara sfuma il furto al bancomat della BNL. I ladri forzano la cornice dell'impianto ma non rubano il denaro. L'allarme è lanciato da un cliente. Per la cronaca siamo a manoppello. Auto contro un albero grave una bimba. La piccola di tre anni insieme alla madre. Auto si incendia sulla A25. Code fino al casello di Brecciarola. Altre notizie di questa pagina. Pescara, De Florentis, neopresidente del Rotary. Il dibattito sulla fusione dei comuni. Nuova Pescara, prima servizi condivisi efficienti. Le parole del sindaco di Montesilvano Maragno che replica la proposta di unire i tre comuni dal 2021, implementare tributi, rete informativa, lavori, mobilità, servizi scolastici, eccetera. Questo prima evidentemente si evince dal titolo della fusione. Vanno prima integrati tutti questi servizi. L'appello sia al casello della A14 a Terra Rossa contro la crisi della Valtavo. Siamo a Francavilla, nuovo assessore, Paolini, critico con Luciani. Francavilla l'esponente di Valori in Comune. Speravamo in un coinvolgimento delle nostre candidate. Appenne domani Pepe incontra gli agricoltori. In basso invece i tassisti pescaresi vanno dal prefetto via i teatini. Alta tensione all'aeroporto. Un momento dell'incontro raffigurato in foto. Andiamo sulle colonne del messaggero per vedere le pagine di Pescara. La banda del furgone costretta alla fuga. Dopo il furto di due moto caricano e scappano. Un testimone avvisa la polizia e fa fallire la razza di mezzi a due ruote lungo la riviera. La squadra mobile sulle tracce dei ladri. Grazie ad uno sportello perso dal Ducato, specialisti nel mirino, si studiano anche i precedenti. Manomesso il banco Matt alla BNL va a monte il colpo in Viale e Bovio. Un misterioso episodio. E poi, altra cronaca, ruba uno zaino alla nave di Cascella, inseguito e bloccato dalla gente nei guai. Un minorenne e poi schianto contro un albero grave. Una bimba, una donna di 40 anni, di scafa e la figlioletta di tre anni, sono ricoverate all'ospedale di Pescara in seguito alle ferite riportate la notte scorsa. Poco prima delle due, a seguito di un incidente, alla guida della Ford Fiesta, la donna ha perso il controllo schiantandosi contro un albero. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco 118 e carabinieri della Compagnia di Popoli, coordinati dal Maggiore Antonio Di Cristofalo. La bimba è in prognosi riservata. Sempre a Pescara, all'omaggio a Banzina dalle stelle del Flaiano. La serata dei Pegaso d'Oro, segnata dalla scomparsa del regista romano. Applausi ai premiati da Elena Sofia Ricci. Parole di profonda umanità sui migranti. Queste le foto più belle della serata. E poi la lunga estate di Pescara, in 20.000 per la notte dei saldi, Brindano, Comune e Commercianti. In basso, palla al centro. Da domani tra Aurum e dintorni la rassegna di teatro ragazzi. E dopo la paura, ritroviamo. Immobile torna al mare, chiusa l'indagine sul tentativo di aggressione. Aggressione che è avvenuta nello stabilimento Lido Bianco di Francavilla, sabato. E dove poi è tornato Immobile nella giornata di ieri. Siamo all'Aquila, fitti per gli universitari. Il mercato riprende fiato. La domanda ha avuto nell'ultimo periodo un significativo aumento. Gli studenti chiedono il 90% alloggi accoppito. Pettino o Cansatessa? Questi sono i luoghi preferiti dagli studenti. La conferma viene da Franco Lepidi, presidente provinciale della Federazione degli agenti immobiliari professionisti. Altre notizie. Donna subisce un trapianto e porta a termine la gravidanza. Trapianto 5 anni fa. La madre ha donato il rene alla figlia che dopo essersi sottoposta al trapianto, nei giorni scorsi ha visto coronare il sogno di diventare mamma. Il caso? L'ex city manager deve restituire 90 mila euro. L'ex direttore generale della giunta Cialente, city manager Massimiliano Cordeschi, dovrà restituire questa cifra a montare indebitamente percepito. A Busci di Monte Reale nascose la morte della madre per la pensione. patteggia, avrebbe truffato l'Inps per appropriarsi della somma di 7 mila euro della mamma. Per fare questo non avrebbe esitato a tenerla morta in casa per molto tempo. In basso, un successo sul camp del Real Madrid, due baby calciatori, Giuseppe Scogna Miglio e Cristian Guaragna, sono stati selezionati durante il primo clinic camp Real Madrid che si è svolto nei giorni scorsi allo stadio Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia dell'Aquila. Slow Food, un aquilano nel nuovo esecutivo nazionale, si tratta dell'agronoma Silvia De Paulis che vedete in questa foto. Rimaniamo in provincia dell'Aquila ma andiamo a Civitella Roveto, dal cavalcavia piovono proiettili. Lungo la superstrada dell'Iri, probabilmente una banda di minori annoiati lancia oggetti. Un pericolo enorme, c'è già una segnalazione ai carabinieri e qualche automobilista finora l'ha scampata per un soffio, restando però ferito al volto. Si appostano di sera, leggiamo proprio l'inizio, sullo svincolo della superstrada dell'Iri per poi lanciare oggetti contro le automobili in corsa. Si tratta di quel lungo tratto che attraversa il comune di Civitella Roveto per poi snodarsi verso la Ciociaria da una parte e verso Avezzano dall'altra. Un'arteria importante, dunque già di per sé pericolosa, sulla quale le vetture sfrecciano a velocità eccessiva. E ci si mette anche questo che viene definito in basso, un gioco molto davvero molto pericoloso. Ad Avezzano trovato morto 93enne con una ferita alla testa, si tinge di giallo la morte di un anziano di 93 anni nei pressi della sua abitazione. Non molto distante. Sul Mona, su Casa Italia, la di Girolamo che venga in consiglio a spiegare. E poi sul Mona, nuovo ospedale, a breve un vertice in basso da Avezzano con corsi ASL prima dei pensionamenti. Andiamo a chiedi interinali, ad alto costo e rischio vertenze, allarme a teatro e servizi. La nota del segretario comunale Celestina Labbadia evidenzia serie criticità. Febo, uno scenario drammatico. Droga, blitz dei carabinieri a da testa, cocaina, un pensionato finisce ai domiciliari. Il colpo alle poste di Fara, esploso il Bancomat. Vedete anche le conseguenze raffigurate in questa foto, abbastanza esplicativa, insomma, dei danni che ci sono stati all'interno di questo ufficio postale. In basso, in mille, a San Salvo, sfilano al raduno degli Alpini. Eccoli qua. Andiamo avanti, siamo a Teramo, dodicenne folgorato dal faro spento. Sfiorato il dramma davanti alla statua di Vittorio Emanuele II nella piazza della Città Alta. Siamo a Giulianova, è in prognosi riservata, ma si salverà. Il ragazzo stava giocando con alcuni amici e ha toccato la presa elettrica dell'impianto. Saranno aperte due inchieste e poi il giusto tributo a soccorrelo è stato l'ex portiere di calcio Claudio Zaccagnini. Ho sentito le grida, racconta, e mi sono precipitato. A Tortoreto, spiagge affollate, ma c'è il problema dei parcheggi. Protesta anche per la mancanza di alcuni servizi comunali essenziali al Lido. In basso, peggiora la situazione dei viadotti. Preoccupa il ponte Michelangelo che da tempo transennato. E sono strutture, si legge, risalenti agli anni 50-60, che avrebbero bisogno di una continua manutenzione e mostrano sempre più crepe e deterioramenti. Qui siamo allo sport, ci arriveremo tra poco. Ripartiamo da Chieti dal centro. Università d'annunzio, test d'ammissione pubblicati in bandi. Sono 887 i posti disponibili nelle facoltà. Numero chiuso, medicina e odontoiatria aprono le selezioni. Prove il 4 di settembre. Il bus a centropaggia non si ferma, a piedi per 5 km. L'insegnante protesta, era l'ultima corsa della giornata. Ma l'autista è sfrecciato, senza sostare. Para San Martino, che troviamo anche qui. Assalto con l'esplosivo all'ufficio postale. Dopo gli arresti di maggio torna in azione la banda del banco. Matti in fuga con 10 mila euro. Ma le banconote sono macchiate indelebilmente. Indelebilmente e dunque praticamente inservibili. Nasconde in casa la cocaina. Arrestato a testa. Trovati 35 grammi di droga e materiale per il confezionamento ai domiciliari. Va un 51enne. In basso al via 200 mila euro. Di lavori in psichiatria. Lanciano Flacco dice, il manager Asl Pasquale Flacco. Reparto in cui non si è mai investito e adesso è una priorità. In autunno invece toccherà a cardiologia. Dunque reparto che sarà rinnovato. L'Aquila. Progetto case. Mega discarica in 19 siti. Degrado nei nuovi quartieri. Chi lascia l'alloggio abbandona gli ingombranti nei garage. Super lavoro degli operai dell'ASM e rischio multe per gli incivili. E queste sono le condizioni evidentemente non esaltanti in cui sono state trovate condizioni di abbandono di alcune case del progetto case di Bazzano. Prima dell'intervento ovviamente degli operatori. Cristicchi celebra di Andrea l'emiciclo. L'Aquila edificio restaurato. L'edificio restaurato accoglie lo spettacolo ai partecipanti alla marcia. Nelle terre mutate. In basso direzione del tesoro. Rivera in pole position. Alessandro, alto funzionario del ministero dell'economia. E in cima alla lista del ministro Tria. Ad Avezzano, anziano trovato morto, indaga il PM ad individuare il 93enne Luigi Lolli. È stata la figlia dopo averlo cercato a casa. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Tragedia. In via delle industrie. Altre notizie. Castronovo, defibrillatore in piazza della Chiesa. Dono del team di calcio e di uno sponsor. Marsica. Strade 150 mila euro dal Masterplan. Consorzio di bonifica della Marsica. Una manutenzione straordinaria. Riguarderà diversi comuni del Fucino in basso. Premi ed emozioni a Celano per la notte del Danjoo. Rotary Club Avezzano. Nicolai passa il testimone a Caroli. A Teramo, ragazzino rischia di morire folgorato. Tocca un faro spento in piazza della Libertà. E prende una scarica elettrica trasferito al Salesi di Ancona. Per fortuna. Non è grave. Scatta l'inchiesta della procura affidata alla Polizia Municipale. Tra i primi ad intervenire con un massaggio cardiaco. L'ex calciatore giallorosso Zaccagnini. Ci sono le parole del papà che dice Voglio capire perché è successo. Ha soccorso anche lui il figlio. Annunciazioni legali. Quel punto luce non funzionava da tempo. In basso furbetti del terremoto. Chiesti i quattro processi. L'accusa. Hanno preso i contributi di autonoma sistemazione. Pur continuando a vivere in case inagibili. Siamo a Civitella. Si sfonda il tetto del Fienile. Cade e muore. Tragedia proprio a Civitella. Il 72enne ex presidente del favale calcio. Lindro Tortù è precipitato da quattro metri. Le novità di Ferragosta. A Roseto torna alla lotteria e nasce il palio dei Lidi. Siamo a Campli. La maggioranza ancora più decisi ad andare avanti dopo il caso Agostinelli. E in basso la Coppa Interamnia Israele vince il torneo tra le nazionali. Stasera l'elezione di Miss e Mister. È un'iniziativa contro la violenza sulle donne. Di Ester sono io, Ester Pascoloni. Ricorderete il medico ucciso nel parcheggio dell'ospedale di Val Vibrata di Sant'Omero. Allora, andiamo allo sport adesso. Abbiamo saltato la parte nazionale per andare ovviamente a casa nostra. Siamo in Serie B. Bel gioco e playoff. Ecco gli obiettivi del Pescara. Oggi i primi allenamenti. Biancazzurri inizia la preparazione con una doppia seduta a Montesilvano. In attesa del ritorno di Memmusciai ci sono 28 giocatori a lavoro con Pilon. Questa è la lista dei convocati per il ritiro. Ovviamente è una lista molto provvisoria perché molti arriveranno, altri andranno via. Altri sono aggregati, sono dei giovani aggregati. Comunque questi sono i convocati. Al via oggi dunque la nuova stagione del Pescara che si ritrova a Città Sant'Angelo e farà i primi allenamenti al Vestina di Montesilvano. Per il mercato c'è il giallo Tutino, ha scelto il Delfino, ma il Napoli, che è proprietario del cartellino del giocatore che ha militato nel Cosenza in questa stagione, vorrebbe mandarlo a Carpi. Ore decisive per l'attaccante. C'è l'Ascoli su Antonucci. Torna di moda anche il terzino e il frosinone Roberto Crivello per la fascia sinistra. A proposito di Ascoli, vediamo Panchina Ascoli. C'è anche Vivarini, oltre a Massimo Oddo, che però ha detto no, e ha Alberto Bollini e Antonio Calabro. C'è anche Vincenzo Vivarini, che potrebbe essere il prossimo allenatore dei bianconeri marchigiani. Per il Pescara andiamo a vedere come sul messaggero, che punta sulle questioni di mercato in apertura. Mercato tutto si complica. Non c'è ancora l'ufficialità per Memuschiai, Scognamiglia e Gatto. Tempi che si allungano. Sta sfumando anche l'arrivo di Antonucci. È l'ennesimo affare saltato dell'estate. Il pezzo del collega Orlando D'Angelo da oggi si suda in campo, ma lo sforzo maggiore dovrà essere quello della società sul mercato. Tutto fermo. Il Pescara è fermo al palo. Si legge, quindi non avendo disponibilità da investire per convincere le società e i calciatori e acquisire giocatori. La chiave sarebbe la cessione di Brugman o di Zampano. È un problema che si sta ripercuotendo sulla caccia all'attaccante. Poi ovviamente c'è il pezzo che entra nei dettagli, ma c'è anche il programma del ritiro. Doppie sedute giornaliere e poi si partirà per Palena. Si comincia oggi a lavorare sui campi in erba naturale del centro sportivo Vestina. Sette giorni di lavoro e poi, prima di salire in quota, lunedì prossimo, 16 luglio, intanto verrà presentato martedì prossimo il nuovo pallone della Serie B, firmato dalla Cappa. E poi ovviamente c'è attesa anche per sapere, per conoscere i nuovi calendari che saranno diramati tra qualche settimana. A quest'apone siamo al futsal. Tino Perez non si fida dell'Apoel, il coach nerazzurro dei campioni d'Italia. I ciprioti hanno grande esperienza con una rosa composta da brasiliani, spagnoli e portoghesi. Questo dopo il sorteggio di Nion per l'esordio, leggiamo, della squadra di Perez, avverrà nel main round in programma dal 2 al 7 ottobre. E c'è appunto questo pericolo dell'Apoel. Andiamo in Serie C, poi lo faremo anche, vedremo anche il confronto tra i due quotidiani. In Serie C il Teramo, preso Ferretti, il laterale viene dalla Ternana, a 24 anni, pronte anche le firme di Direnzo e di Zenuni. Nei prossimi giorni la società Biancorosa attende pure le chiusure per Zecca e per Ragneri. L'inizio, vediamo il piccolo box, l'inizio del ritiro fissato per il 18 luglio, impone alla dirigenza di dare una squadra il più possibile completa al tecnico Giovanni Zichella. In basso Chieti, Sentimarino, condannati a vincere, presto novità di mercato per i neroverdi, per il centrocampo c'è Pacella, fatta per l'arrivo di un altro spagnolo. Di spalla c'è la Serie D, Pineto attacco ok, adesso però è caccia agli altri ruoli e c'è, come vedete, in basso il caso Portieri in casa Pineto. Pagina 41, l'Aquila, ora, ius, è pronto a mollare. Il presidente infuriato, si legge, per le ingerenze degli imprenditori locali, assurdi veti su di me, chi vuole trattare deve apprezzarmi. A soli quattro giorni, leggiamo, dalla scadenza per l'iscrizione al campionato di Serie D, si vivono ore delicatissime all'Aquila. Il progetto del manager romano Gianlucaius è a fortissimo rischio. Ci potrebbe essere questa cordata locale che vorrebbe rilevare l'Aquila a calcio. Candeloro con l'Ascoli è la fine di un sogno, la fine di un sogno, queste sono le prime parole di un deluso Gilberto Candeloro dopo l'interruzione della trattativa con il presidente Bellini per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza dell'Ascoli Calcio. Ascoli che adesso è di proprietà del gruppo Bricofer di Massimo Puccinelli, che ha acquistato il 90% delle quote proprio da Bellini. Serie D va stese da Alessandro Cè, ora si punta su Esposito e poi in basso invece per il Futsal il pivot brasiliano Fabinho, preso dal Civitella Sicurezza. Altre notizie, Giulio Basket vince una squadra a Lettone e Basket Giovani per la prima volta un sodalizio straniero ha conquistato il grino più alto della categoria Under-15. Per il volo e Sieco Service due pedine per completare lo scacchiere. Dall'altra parte per il rugby, l'Aquila Club e l'Ura sono giorni decisivi per l'iscrizione in A. Torniamo sul quotidiano Il Centro e torniamo in Lega Pro, in Serie C, Campitelli, voglio il teramo più ambizioso, parla il patron, entreranno dei soci con una quota del 15%, piccioni e carico. Qui ha già fatto bene lo zio, l'intervista al patron Campitelli. Parla Giancola, il presidente degli arbitri abruzzesi, arbitri più selezione e meno casi di violenza. Il Vastese confermato per la quinta stagione di fila al vertice del movimento, questa lunga intervista proprio ad Angelo Martino Giancola. Andiamo avanti, le trattative in Serie D. Vastese a caccia della punta, il sogno di Palladini e Sciba, il DS Ruffini prova a chiudere l'attaccante albanese che il tecnico ha avuto nella Sambra. Difficile arrivare a disposito in Leonetti, D'Alessandro si presenta, sono felice di essere qui. In alto, Real Giulianova, un passo da Bruni, poi rinforzi in difesa e a centrocampo. Questi sono i movimenti della formazione giallorossa che oggi dà il via alla campagna abbonamenti per il prossimo campionato. In casa Vezzano, invece, Iacovitti rassicura ai tifosi che sarà una Vezzano forte di essere bianco-verde. Finora abbiamo lavorato per le riconferme, a breve arriveranno altri elementi. Nell'altra pagina, pagina 39, un gruppo locale tratta l'acquisto dell'Aquila con i Jussi. Il presidente frena nessuna proposta concreta, ci sono volte in cui è realmente troppo tardi. Tardi, venerdì, ultimo giorno per l'iscrizione. Di spalla, San Nicolo sulle tracce del bomber Minella, il lavoro, il direttore sportivo Stefano De Angelis. In basso, altre notizie di Serie D, le parole del tecnico del Francavilla Paolo Rachini, che dice che sarà un Francavilla da play-off, mele verso il rinnovo, attesa per Dicecco, sfuma Adorni. Il Pineto, invece, tracconferme nuovi arrivi, finora cinque acquisti per la società che dovrà completare la rosa. La preparazione si svolgerà al Mariani Pavone, inizierà il prossimo 23 luglio. Il mercato in eccellenza chiede rivoluzione per tornare a vincere, dopo le delusioni, il tecnico marino soddisfatto del mercato. C'è più qualità, l'eccese attaccante ideale, economiche o alternative. E poi nel box ci sono le scadenze della stagione 2018-2019, in relazione soprattutto alle questioni burocratiche che investono il periodo estivo. In basso, sempre per l'eccellenza, il paterno prende Moro, Mauti e Sassarini. Penne, arrivano Casimirri, gli spagnoli Sanguinetti e Zamora Ballabriga. Puglielli ceduto in Toscana. A Lanciano, invece, si lavora al ritorno di Margarita. Il rossonero è già stato in rossonero ai tempi della Serie C, ora potrebbe essere. Il rinforzo per l'attacco dopo l'esperienza di Chieti. Altre notizie di categorie minori. Mainella al Fossacesia, Silvi di Alafater, Pallamano, Lions, Orizzonti, Tricolori. Per il basket, Rodriguez, Rosetto, salvo con lo spirito di gruppo. Il nuovo acquisto di Biancazzurri si dividerà tra Roma e il Palamaggetti. Non sarà un problema, dice, mi solletica l'idea di giocare con uno come Sherrod. E poi di spalla, Serie B del Conte presenta oggi il progetto per la teate. Le terramane di Serie B, iscrizione ok per Teramo. Giulianova e Campli, i biancorossi puntano su Marchetti, i giallorossi su Ferraro. I farnesi, invece, dopo il saluto a Millina, cercano ancora il nuovo coach. Noi ci fermiamo qui per questa edizione di Mattino 6, che torna ovviamente domani puntuale alle ore 8. Io vi ricordo gli appuntamenti con i nostri spazi informativi alle 14, alle 19 e alle 23. È tutto, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.